La violenza assistita è la forma di violenza indiretta di cui sono vittime i minori che assistono o sono comunque a conoscenza di episodi di violenza familiare. È un episodio che produce danni complessi perché la vittima secondaria di una violenza familiare subisce effetti analoghi alla vittima principale. Inoltre essa è inserita nel circolo di trasferimento dell'odio e della distruttività, candidandosi a divenire se stessa futura autore di violenza. L'impegno delle istituzioni è pertanto un impegno complesso. La Polizia di Stato persegue gli autori delle violenze perpetrate in ambito familiare che si rendono così responsabili del reato di maltrattamenti in famiglia e in queste ipotesi nella sua forma aggravata perché il fatto è commesso in danno o in presenza di minori. Il questore, dal 2013, è stato munito di uno strumento di prevenzione, l'ammonimento per violenza domestica, che nel caso in esame presenta una peculiarità. Esso può essere attivato per mezzo di una segnalazione proveniente da soggetti diversi, da quelli appartenenti all'ambito familiare e quindi alle vittime di violenza. Vicini di casa, insegnanti e tutti coloro che orbitano entro l'orbita del minore sono chiamati a effettuare una segnalazione per una violenza che è troppo spesso e rinchiusa entro il silenzio delle mura domestiche. Pertanto è stato forte l'impegno della Questura di Torino nel fornire strumenti di conoscenza e di attivazione della segnalazione a tutti coloro che operano nel tessuto sociale, che per noi sono degli alert sociali delle violenze in ambito familiare. Ci siamo arrivati agli insegnanti, ai sanitari e a quanti hanno avuto interesse nella materia o semplicemente si sono trovati per strada durante le nostre campagne, nelle piazze, presso le stazioni e nelle città. Ulteriormente abbiamo sentito un'esigenza più forte, cioè quello prevenire il rischio più grande di una violenza assistita, ossia che il minore esso stesso addiventi da vittima ad aggressore. Abbiamo quindi avviato un dialogo coordinato con le strutture sanitarie e scolastiche per inaugurare un percorso di educazione alle emozioni rivolte ai minori, affinché il circolo di trasferimento dell'odio e della distruttività venga interrotto e venga eliminata la sua trasmissione intergenerazionale.